Prevenire è sempre meglio che curare, ed ecco questa iniziativa da parte della Lions Club di Omenia insieme ad altrimenti alla provincia, all'Asla e alla Casa della Salute di Omenia per questa iniziativa pubblica in piazza, insomma gratuitamente uno screening su diversi fattori di rischio. Sì, l'abbiamo chiamato Lions Day, quindi come altri club abbiamo organizzato questa mattinata dove facciamo lo screening, lo screening in particolare sull'ipertensione, sulle patologie del diabete, sulla patologia dell'epatite C e poi anche un esame epatologico, lo facciamo gratuitamente. Perché sono importanti questi screening, questi momenti anche in mezzo alla popolazione, in mezzo alla piazza invece che negli ambulatori? Sono importanti perché molto spesso ci sono delle patologie misconosciute che molti pazienti non sanno di avere e che se curate per tempo possono prevenire danni ad organi molto importanti come il cuore, i reni, quindi l'ipertensione, il diabete sono patologie che vanno tenute sotto controllo, vanno fatto spesso dei controlli, anche banali perché come abbiamo potuto vedere oggi un banchettino qua in una piazza, abbiamo misurato la glicemia con un piccola goccia di sangue da un dito, una pressione misurata con una sedia e un tavolino, direi che più di così, abbiamo il dottor Colletta sul nostro specialista di malattie epatologiche su un camper che con un fibroscan che è un'apparecchiatura molto semplice può evidenziare se ci sono delle patologie a livello epatologico, anche quelle molto importanti.